...ad una visione del rapporto con i cittadini infrontata a un esercitismo tecnologico... La manifestazione contro Marchionne è perché noi vogliamo contestare proprio il simbolo della precarietà, il simbolo di questa classe dirigente, di un'industria che sa solo cancellare diritti, licenziare i lavoratori e fare profitti sulla pelle di chi lavora. Questo è oggi Marchionne e noi oggi lo stiamo completando proprio perché è il simbolo di questa politica dell'inefficienza e del fatto che si punta solo a ridurre i diritti e a cancellare la dignità del lavoro. Non è casuale che a Pomigliano ci sono stati due suicidi proprio a causa della cassa integrazione e dell'assenza di prospettive fatta dalla politica di Marchionne. Non è casuale che a Pomigliano ci sono stati due suicidi, licenziare i diritti, licenziare i diritti, licenziare i diritti.